Riccardo La Terza, oggi commissione sulla cabinovia, convocata a seguito di una sua richiesta, il Comune tira dritto, l'ultima novità è che i lavori partiranno entro l'anno dopo gli ultimi ok di sovrintendenza regione, probabilmente già in autunno. Voi vi avete chiesto ancora una volta di cambiare rotta. La posizione della sovrintendenza è chiara, questo ok da parte della sovrintendenza al progetto dell'Ovovia non arriverà mai perché è stato scritto nero su bianco che stazione, piloni, cabine sono incompatibili in maniera assoluta con i vincoli presenti in Portovecchio. Di fronte a questa posizione molto chiara che la sovrintendenza ha scelto di anticipare in forma collaborativa al Comune le opzioni politiche sono due, la nostra è quella di seguire il Consiglio della sovrintendenza, andare a Roma e cambiare progetto finché siamo in tempo. E' stato messo nero su bianco che questa opzione è un'opzione possibile, l'opzione che oggi la maggioranza ha confermato è quella invece di andare, di tirare dritto nonostante i pareri contrari, andare a schiantarsi contro un muro perdendo i 60 milioni del PNRR. E' una responsabilità politica molto pesante che la Giunta sceglie di assumersi ma che non potrà assolutamente scaricare su nessun altro. Se si andrà avanti verso un vicolo cieco come quello appunto di un'opera irrealizzabile la responsabilità politica è solo della Giunta di Piazza. Ancora una volta abbiamo appreso che questa amministrazione nonostante le lacune del progetto della cabinovia sottolineate dalla sovrintendenza ha intenzione di andare dritta senza occuparsi invece di altri problemi più importanti come può essere quello del tram o della piscina terapeutica. Abbiamo avuto modo di sottolineare che gran parte dei cittadini non sono assolutamente favorevoli a questo progetto, hanno diversi timori oltre a quello ambientale, paesaggistico, anche di sostenibilità economica. Perché ancora una volta abbiamo rilevato che è un progetto soprattutto turistico basato su una grande quantità di turisti che ad oggi auspicchiamo di sì ma ad oggi Trieste non ha.